Un trasferimento che ha fatto molto discutere e che non ha convinto soprattutto i cittadini è quello del procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla, deciso dal Consiglio Superiore della Magistratura dopo l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Salerno per corruzione. I cittadini hanno deciso di raccogliere delle firme per chiedere l'annullamento del provvedimento tramite www.change.org e per il momento hanno superato quota 5.000. Le stesse firme saranno poi inviate al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro Hotel Lupacchini. Ricordiamo che Facciolla è stato trasferito in Basilicata e precisamente presso la Procura della Repubblica di Potenza.